Una legge per regolare l'accoglienza e l'inclusione, garantire la lotta al caporalato e aiutare i sindaci dei comuni siciliani a gestire al meglio i flussi migratori. Il progetto di legge è frutto di un intenso lavoro coordinato dalla rete L'Isola che c'è e da cui hanno preso parte numerosi deputati di diversi partiti dell'Assemblea regionale siciliana. Il DDL è stato presentato ieri mattina in conferenza stampa alla presenza dei deputati regionali Nuccio Di Paola, Stefano Pellegrino, Claudio Fava, Giuseppe Lupo, Margherita Laroccaruvolo e Sergio Tancredi. Oltre che al presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè e al sindaco di Palermo Leo Luca Orlando. Il disegno di legge che inizia ora il cammino nella prima commissione legislativa dell'ARS ha visto un'ampia e trasversale convergenza dei partiti che hanno ravvisato la necessità per la Sicilia, avvocata da sempre all'accoglienza, non solo per motivi geografici, di dotarsi di una legge che vada a colmare un vuoto normativo ingiustificabile, specie alla luce dell'attuale momento storico che l'isola vive come terra di frontiera, geografica e socio-economica. Una legge che affonda le sue radici nella condivisione, come spiega il deputato grillino Nuccio Di Paola, uno dei principali promotori. Questo disegno di legge in questi due anni è stato condiviso e c'è stata un'azione sinergica da parte di più forze politiche, proprio perché è un disegno di legge importante, è una legge che manca in regione siciliana e l'unica regione, pensate la Sicilia, a non avere una legge che va a regolare l'accoglienza e l'inclusione. Il DDL nasce nel giugno del 2020, a pochi giorni dal tragico omicidio di Adnan Siddique, il giovane pakistano, ucciso per aver denunciato il caporalato. Il disegno di legge è stato depositato nel giugno del 2020, pensate pochi giorni dopo l'uccisione di Adnan Siddique, un pakistano che è stato ucciso perché aveva denunciato il caporalato. Quali sono le innovazioni di questo disegno di legge? Sicuramente la programmazione triannale ed annuale che finalmente è condivisa, è condivisa con i sindaci, è condivisa con i territori, che non devono essere più lasciati soli, non devono essere più lasciati soli al gestire il fenomeno della migrazione, che non deve essere gestito più dal punto di vista emergenziale. E poi innovazione per quanto riguarda la lotta al caporalato, le politiche abitative, le politiche sul lavoro, la sanità, e infine l'elenco dei mediatori culturali, una figura importantissima che deve essere normata e deve essere riconosciuta all'interno della regione. Abbiamo realizzato un gran disegno di legge che stiamo facendo il possibile affinché possa diventare nel più breve tempo possibile legge. In questo periodo, in questi due anni, noi abbiamo anteposto il noi all'io ed è questo il lavoro che deve essere fatto per ottenere grandi risultati, così come stiamo facendo per la legge sull'accoglienza e l'inclusione, ma anche per costruire una Sicilia da un futuro migliore e diverso.